E bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Brook The Investigator. Allora, è un titolo che mi ha dato in K, quindi ringrazio tanto lo sviluppatore e direi di andarlo a provare, perché sono alquanto curioso. Cos'è lotta veloce tra l'altro? Opzioni, riconoscimenti, vabbè, nuova partita. Andiamo direttamente. Allora, difficoltà combattimenti. Standard, hardcore, bassa. Facciamo standard, facciamo standard. Come vorrebbe lo sviluppatore, giustamente. È una modalità classica, lo standard. Che succede? Un incendio. Dove sono? Penso in casa. Sono dei guai. Ok, va bene. E che devo fare? Finestra. In che senso? È una digifinestra. Ed è rotta, bene, fa piacere. Eh, direi che forse... Strano, cosa dovrebbe raffigurare? Ma non si può, no, eh? Guarda che noi stiamo guardando in giro, ma... Sarebbe solamente un incendio. Ah, ha preso la scossa. Una coperta, oh. Ma se butto la coperta qui... Ah, ecco, vedi mo? Che ca... Ah, si può rompere la porta, ok. Non avevo capito. Sembra un tribot multifunzione. Accendiamolo. Ma va? Sarà scarico, può essere. Dispositivo. Multimedia, holografico... Vabbè, tipo un tablet. Una roba del genere. Questo va? Vabbè, non va, non va, non va, non va niente, non va. Ma che ca... Stai svegliato. Non mi incarico. Ecco, bene. Ma cosa? C'è l'incendio. Esatto. Niente, non ha... È molto simpatico. Eh, che cosa deve fare? Neutralizzare l'individuo a tutti i costi. Ma cosa? No, vabbè, è bellissimo il combat system. Dio, picchiaduro cattivissimo. Oh, cazzarola. Ce ne sono un botto. È molto semplice con il combat system, in realtà. Non è fatto bene come modelli in generale. Cioè, non è fatto male, eh. È carinuccio. Niente di... Wow, però. Ah, si può rompere anche questo? E allora se mi dà qualcosa. Porta sbloccata, però volevo provare a... A rompere questo qui. Non mi dà nulla? Non mi dà niente. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora. Sei, mi sa che qua... C'è un po' di fumo. Brooke è più agile di quanto sembri. Prima di tutto, imposta la modalità azione. Ah, ok, ok. Chi è? No, non lo so il perché. Tira su il mobile. Ma porca miseria. La sbarra, ok. Poi. Facciamo così. No. Che senso, tutta colpa tua? Assassino? Non sto capendo. Onestamente. Mi hai ucciso come hai ucciso lui. Che sta accadendo? Che sta accadendo? Eh. Che strano sto gioco. Mi sta rivelando molto strano. Ma certo, non muoverti come cavolo si muove. Ma chica. Ma chica. Io sono un po' senza parole, onestamente. Ah, era un sogno. Mi sa. Mi sa che era un sogno. Buongiorno. Un altro incubo, eh. A quanto pare. Chi? Chi mi ha chiamato? Appunto. Chi mi ha chiamato il tuo telefono. Certo. Ehm. Certo, è che uno che ti chiama alle 6.40 del mattino. Sicuramente non può essere simpatico, eh. Stavo dormendo. Stavo dormendo. Addirittura. Addirittura. Va bene. Non lo so il perché. Prepariamoci. Prepariamoci. Capitolo 1. Ma si può rompere? No. Teoria, non credo. È un sacco da pugile. Come fa a rompersi? Andiamo un po'. Sul serio si è staccato? Sei veramente uno zotico. Eh, direi di sì. E che cavolo, eh. È un materasso. Povera pianta, più che altro. Ah, questa era la sua famiglia. Un tempo. Ora non so, onestamente. Quindi ha preso fuoco, tutto, però lui non c'era. Giusto? Allora. Frutto di pan palmo, frutta fresca, con solo il 5% di pesticidi, ripristina il 25% di salute. Sicuro? Eh, direi che ci può servire, eh. Eh, direi che ci può servire, eh. No, mi ammazza di sopasso. Seleziona hotspot. Cioè? Ah, posso muovermi così. Ah, posso muovermi così? Ok, incrementa la forza per 30 secondi. Energy drink. Perché c'è l'annuncio del cibo dentro a... Vabbè. Meglio non chiederlo. Nooo. Sì, ma la scorsa. Tempo vola, eh. Io devo puirli? Vabbè, penso di no, eh. Molto simpatico, comunque. Cosa c'è? Allora, mostra oggetti, pensa... Che dimostro? Era di tua madre? Ma lui è figlio? Ma lui è figlio! Ma lui è figlio, raga! No, non è vero. Così. De botto. Ma povero papà. Cioè, l'idea del povero in canna. Se è un figlio molto simpatico, comunque. Eh, ma mi sa che è veramente suo figlio. Sì, ma stai calmo. Amico mio, stai calmo. Fa vedere? Eh sì, è figlio. Avevo ragione, allora. Ok. Beh, pensavo che quello fosse... Cioè, onestamente... E come faccio, scusa? Come posso fargli del male? Bastone! Non l'avevo neanche visto. Posso usare il bastone, no? Ah, vedi, mo? Eh... Daie. Tu... Un bot pulitore che dovremmo far riparare, immagino... Vabbè. Non è la mia culpura! Non mi guarda così! Oh, no. Non dovremmo aver toccato. Ora sono coperto in cat fur. Del pelo di gatto. Beh, questo... Ma dov'è il gatto? Scusate, non c'è il gatto. Appartamento di Brook. Sistema postale. Sistema postale. Security. Tighter security. Always more secure. Ah, eh, sì, eh. complexe. Ok. Nuova lettera. Eh, però? Eh. Ah, è qua! Ok, ok. Chili di bollette. Una sola bolletta. Magnifico! Wow, che bello! Eh, 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 eh. Un altro foglio? Cazzarola, quindi bisogna farlo tra pochissimo, entro due giorni. Eh, appunto. Bella domanda. Oh, sta... Sì, sì, non ti preoccupare. Mamma mia. Che ansia. Che ansia. Da bondo ai tetti, Brook si appunterà a tutto quello che ritiene importante. Ok, ok, va bene. Va bene. La posso trattenere anche per giorni, ma... Oh, se tu ce la fai... C'è uno di tuoi, eh. Ok. Bene, le nuove cose? Ingrescio sul tetto di questo edificio. Va bene, poi... Donna settantenne è pronta a prendersi cura di Tubermi durante la tua assenza. Ma anche no. Cioè, anche no? Vai, musica dal vivo. Ingresso libero. Quindi va bene. Ah, la settimana scorsa. Ok, allora niente, come non detto. Come non detto. Comunque, oh, il gioco è sottotitolato in italiano e ha un sacco di dialoghi. Ma un sacco. Cioè, e non è neanche un gioco di una grande software house. Quindi, cioè, complimenti agli sviluppatori perché... Ora come ora è sempre più difficile trovare giochi almeno sottotitolati. Doppiati è un miracolo. Non giochi con noi. Il boss non lo piace. Quindi, hando... Mr. Squealer. Hai fatto un buon guardare? Hai davvero aspettato di qualcuno come me di avere questo tipo di money? Perché? Chi importa. Che sta facendo? Non ho capito. Non stanno tipo minacciando. Oh, beh... Aiutiamolo. Adesso mi metto a posto io. Ho anche un bastone in realtà. E non vorrei di... Ammazza, che botta che gli ho dato. Forse ormai è troppo semplice, eh. Onestamente. Sì, forse è troppo semplice. Ho anche preso un livello. Livello 2. Non so cosa... Ah, level up. Scegli un bonus. Beh, figa questa cosa alla GDR. Io farei più forza perché, meno male, è difficile che prenda danno, eh. Da quello che ho visto. Forza. Ok. Sì, sì, sì. Ammazza, oh. Ma che tristezza, amico mio, eh. Non c'è così. E... La cuorepatia. Ok. Quindi... Ha preso delle medicine da loro e, quanto pare, mi sa che non li ha pagate. Mi sa, eh. Lo stavano troppo, non lo so. Lui fa il positivo. Nessuna malattia è davvero incurabile. Ok, ok. Theoretically, but no one cares about us slummers. In any case, you shouldn't be staying here in the cold. Come to our apartment. Allora, l'ospediamo così? That's very nice of you, but I can't accept. I've already caused you enough trouble as it is. Ma vada. Ma stai tranquillo. Ok. Lui ha rifiutato. Allora, but I'll find a way to help you somehow. I promise. You have your whole life ahead of you. Don't waste it on people like me. I want to. And it's my decision as well. Allora. Here's the last medical prescription I've got. This dates back to my time as a drummer. Before they expelled me. Expelled? You know the rules. Only valid people are able to stay. Unless you've got family. Ah, insomma. Figli di papà. This medicine helps stabilize my disease. I'm not sure you can still get anything with this old cardboard piece, but... Take it. Ok, una prescrizione medica. I wish you had something more useful to offer you. That's fine. I'll manage. Thank you, my boy. Allora. Here. My boy. I may be a tramp, but money isn't what I want. Allora. Eh, infatti. Vabbè. Ok, ok. I get it. Va bene. Mi paghi la bolletta? Vabbè, senti. Va bene così. Vabbè, senti, va bene così. Tanto. Ma cosa vuol dire? Ma non è che possono ammazzarti. Ah, ecco. Ma infatti comunque ha l'aspetto un po' da vecchio militare. così via. Così via. In effetti. va bene va bene ragazzi io direi che per il momento può essere tutto salviamo anche manualmente abbiamo visto solamente 2% del gioco quindi immagino che duri parecchio il titolo però devo dirvi che si presenta molto bene devo dire che mi piace mi piace perché sembrerebbe essere un gran bel un gran bel gioco in realtà cioè mi sta prendendo veramente tanto e sono contento di averlo portato qua sul canale io vi ringrazio molto spero che il gioco vi sia piaciuto se volete vedere altri episodi fatemi sapere che vi accontenterò chiaramente e ci becchiamo alla prossima ciao ragazzi